completiamo questa prima parte sul magnetismo abbiamo visto la la forza di lorenz l'interazione tra il campo magnetico e una carica in moto e alcuni effetti il primo dei principali e quello dell'aurora boreale che abbiamo discusso la volta scorsa se nella regione dove si trova la nostra carica in moto è presente anche un campo elettrico allora la forza complessiva sul sulla carica in movimento sarà dovuta sia alla forza elettrica quindi la carica per il campo elettrico più la forza la parte magnetica quindi carica per velocità moltiplicata vettorialmente per il campo magnetico b questa in generale la forma completa della forza di lorenz della forza che agisce su una carica che si trova in generale in presenza sia di un campo elettrico che di un campo magnetico un primo esempio di applicazione di questa legge fisica di questa forza è quello che si chiama il selettore scusate di velocità che è un dispositivo di questo tipo immaginate di avere qui avete un questo pallino azzurro rappresenta una carica in moto in una regione dello spazio immaginate che in questa regione si trova sia un campo elettrico come vedete dalle due armature cariche positivamente poste in basso in alto quindi un carico un campo elettrico diretto verso l'alto e sia un campo magnetico in questo caso vedete la punta uscente dal dal piano della della figura dell'immagine allora esiste una particolare combinazione di campi elettrici e magnetici che fa sì che la risultante delle forze applicate alla carica sia zero quindi è sufficiente porre uguale a zero questa la forza di lorenz in questo caso il campo la forza elettrica q volte il campo è uguale all'opposto di quella magnetica quindi meno cubi vettori possiamo semplificare per la carica e nel caso che la velocità sia perpendicolare al campo come nel caso della figura allora possiamo ignorare la c'è il fatto che il seno dell'angolo tra b e b e 1 e possiamo lavorare quei moduli delle vari vari campi di velocità e vedete che se la velocità della particella di carica b è uguale rapporto tra campo elettrico e campo magnetico allora si realizza questa condizione cioè quella in cui la forza la la carica è in equilibrio quindi sulla carica la forza risultante è zero motivo per il quale del primo principio della dinamica se la risultante delle due forze elettrica e magnetica si bilanciano la particella procede mantenendo inalterata la velocità in intensità direzione verso quindi procede di moto a rettilineo uniforme quindi in questo senso cosa significa significa che per tutte quelle particelle che magari entrano in questa regione e hanno questo particolare valore della velocità uguale rapporto tra il campo elettrico e il campo magnetico queste particelle sono le sole che usciranno dalla dall'altro lato della della regione in cui si trovano i nostri campi con la stessa velocità con cui sono entrate quindi procederanno di moto rettilineo uniforme per cui qui vedete che c'è un'apertura nella zona alla fine del campo del condensatore quindi di cui usciranno sulle particelle con questa particolare velocità ecco perché questo sistema viene chiamato selettore di velocità se io in questa regione da sinistra entrano di particelle diverse quindi con velocità diverse allora posso regolare i due campi elettrico e magnetico in modo tale che quelle particelle che usciranno da questo da questa apertura quindi usciranno sulla dalla destra di questo selettore abbiano quel particolare tipo di velocità quindi è un sistema utile per selezionare una particolare sottogruppo gruppo di particelle che si muovono in determinato modo questo è dovuto al fatto che la forza dovuta campo elettrico e magnetico su queste particelle danno uno contributo opposto all'altra quindi si cancellano con l'altra per cui solo le particelle con quella velocità ripeto hanno un moto rettilineo uniforme quindi posto che abbiamo utilizzato questo sistema per selezionare le velocità qui avete questo dispositivo in alto che è un selettore di velocità possiamo utilizzare quanto visto la volta scorsa cioè il moto di una particella carica in presenza di un solo campo magnetico stavolta per riuscire a misurare la massa della particella perché beh immaginate appunto qui in alto nella figura avete la sorgente di che emette particelle cariche se inseriamo un selettore di velocità quelle a particelle che attraversano questa zona sono quelle che hanno una particolare valore della velocità che quindi possiamo misurare regolando opportunamente il valore del campo magnetico del campo elettrico all'uscita del selettore di velocità le particelle entrano in una sola regione dove c'è un campo magnetico in questo caso perpendicolare la figura ma entrante e quindi le particelle saranno sottoposte una forza di tipo q vettor b per cui tra seguiranno una traiettoria che una circonferenza un arco di circonferenza e quindi tenderanno a tra seguirlo traiettoria di questo tipo e se metto un rivelatore di particelle alla fine di questa regione posso individuare il punto dove le particelle escono nella zona del campo e quindi misurare il raggio della loro traiettoria nella loro traiettoria in questo caso semicircolare dal valore del raggio posso ricostruire la massa di queste particelle perché tutto il resto delle grandezze nella relazione che vedete qui a sinistra sono note il raggio misura la carica la misura il campo magnetico lo conosco la velocità abbiamo appena selezionata e quindi questo sistema mi permette di avere una misura del vero della massa delle particelle in funzione del tratta essenzialmente dal raggio della loro traiettoria questo particolare dispositivo combinando appunto il moto circolare delle cariche con un settore di velocità viene chiamato lo spettrometro di massa cioè un sistema per misurare la massa delle diverse particelle che in generale contribuiscono a formare un fascio di particelle cariche evidentemente quelle non cariche ahimè non non sono misurabili in questo modo perché non risentendo della forza magnetica ha una traiettoria che è una rettilinea quindi non vengono deviate e questo è uno strumento classico utilizzato nello studio delle particelle elementari la combinazione quindi tra il selettore di velocità e lo spettrometro di massa un punto importante sempre legato al come applicazione del moto delle particelle in campo elettrico e magnetico è lo studio di quello che vengono chiamato raggi catodici cioè delle radiazioni emesse per foto ionizzazione da un catodo e che erano in grado addirittura di proiettare un'ombra che vedete il tubo detto tubo di crux che con sottoponendo il catodo c ha una differenza di potenziale che accelerava particelle cariche che adesso sappiamo fossero particelle cariche e era in grado di proiettare ombre su uno schermo il all'inizio non si sapeva che cosa forse che proietta l'ombra c'è che tipo di radiazione o particelle fossero quelle responsabili di quest'ombra e il primo che ne investigò fu e che trova risultati che che oggi che oggi conosciamo è stato jj thompson e ha condotto un esperimento che poi l'ha portato ad affermare l'esistenza della promette la prima particella elementare isolata che è l'elettrone e ne ha misurato il rapporto carica su massa cosa che gli ha fruttato nel 1906 il premio Nobel per la fisica vediamo in cosa consiste l'esperimento di crux e di 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 jj thompson in praticamente abbiamo un sistema analogo a quello del settore di velocità ed è formato da un tubo punto a vuoto dove un catodo emette particelle per foto per termine utilizzazione queste vengono accelerate dalla presenza di un campo elettrico questa piastra metallica più a destra è potenziale diverso da quella che emette le particelle quindi le particelle se sono cariche vengono accelerate quindi escono da questo foro attraverso questa zona o c'è il campo elettrico escono da questo foro vengono deflesse da un campo elettrico tra le due piastre positiva e negativa che vedete nell'estremità superiore inferiore del tubo e quindi si può misurare a seconda del punto dove colpiscono lo schermo il valore dell'angolo della loro deviazione questo tecnicamente era il principio di funzionamento base del tubo raggi catodici cioè dei vecchi televisori per esempio immaginate che essenzialmente questi siano appunto dei degli elettroni che vengono deflessi verso l'alto da questa differenza di potenziale quindi da un campo elettrico quindi calcoliamo e misuriamo delta dopodiché oltre al alla conoscenza del valore di data se abbiamo informazioni sul campo elettrico sulla lunghezza del tratto che le particelle percorrono il campo elettrico possiamo andare a misurare il valore del rapporto carica fratto massa come vedete qui a sinistra è sufficiente applicare al moto di queste particelle la il secondo principio della dinamica quindi la forza massa per accelerazione vale carica per campo elettrico il la forza è una forza diretta perpendicolarmente quindi la componente orizzontale della velocità degli elettroni rimane invariata nel moto orizzontale costante la componente verticale invece della velocità cambia per effetto del campo elettrico e acquisisce una componente che data dall'accelerazione per il tempo di volo cioè il tempo di che le particelle trascorrono nel all'interno del campo elettrico quindi all'interno della zona dei del condensatore quindi lungo il tratto l e quindi è sufficiente moltiplicare l'accelerazione che carica dell'elettrone per valore del campo diviso la massa per il tempo di volo per il quale possiamo utilizzare il fatto che è molto orizzontale molto rettilineo uniforme quindi il tempo di volo sarà la lunghezza del tratto all'interno del condensatore diviso la velocità orizzontale pubblica iniziale orizzontale e quindi il la deflessione dovuta all'accelerazione causata dal campo sarà legata alla direzione che le due componenti y e x il rapporto delle componenti y e x ci darà proprio il valore della tangente dell'angolo delta perché una volta uscita dal campo tra i due connessi tra le due armature del condensatore la particella procede di molto rettilineo uniforme e quindi la componente x della velocità e quella iniziale quella y quella che ha acquisito per l'accelerazione dovuta al campo il loro rapporto è dato esattamente dalla tangente dell'angolo delta di deflessione del del fascio dovuto al campo elettrico che è strettamente legato alla posizione y sullo schermo e qui è sufficiente conoscere la lunghezza la distanza tra lo schermo e il condensatore per cui è facilmente calcolabile delta in funzione di y y la tangente di delta è uguale a y diviso la distanza tra schermo e condensatore che in termini delle grandezze elencate sopra è la velocità di y e carica dell'elettrone campo elettrico per lunghezza del condensatore diviso massa dell'elettrone diviso la sua velocità iniziale ci dividiamo ancora per vx abbiamo proprio la tangente di delta prego ok bene adesso si sente molto bene ok allora il qui bisogna introdurre il spasso successivo è una volta misurato il valore di delta è sufficiente introdurre un selettore di velocità cioè un campo elettrico il campo magnetico scusate orientato perpendicolarmente a quello elettrico e faccia sì che usate solo un secondo scusate solo un secondo che discurso dell'inconvenente tecnico riprendiamo quindi abbiamo visto la prima fase dell'esperimento di di thompson in cui un fascio di elettroni emessi e accelerati per il termo ionizzazione del capo e accelerati da questa differenza di potenziale attraversa una zona dove è presente un campo elettrico verticale quindi viene deflessa verticalmente e abbiamo visto la relazione che lega l'angolo di deflessione quindi la tangente di questo angolo delta con le grandezze che caratterizzano il nostro fascio di particelle quindi la carica degli elettroni valore del campo e la lunghezza del tratto dunque il quale attraversano la zona dove presenti il campo elettrico verticale diviso per la massa dell'elettrone alla velocità iniziale al quadrato ci dà la tangente di delta successivamente è possibile azzerare la deflessione inserendo un campo magnetico perpendicolare ad è come avviene di quello che abbiamo appena visto nel settore di velocità quindi metto un magnete naturale o un elettromagnete indifferente perpendicolarmente al campo elettrico di intensità tale che la forza dovuta al campo magnetico bilancia quella legata all'effetto del campo elettrico e quindi ho modo se riesco a fare in modo che il tratto di elettroni faccia una traiettoria rettilinea quindi se che sullo schermo il fascio ha una deflessione nulla o modo che di misurare la velocità perché il valore del campo magnetico che consente di bilanciare la forza elettrica sarà proprio quello che mi individua qual è la velocità con cui gli elettroni entrano nella mia regione dove sono presenti due campi elettrico e magnetico da questa grandezza da questa informazione è possibile con un minimo di algebra ricavare quindi al posto di v di v zero metto il rapporto tra la carica il campo elettrico e il campo magnetico che bilancia l'effetto elettrico il volo di delta avevamo misurato nella parte iniziale e da qui l'unica incognita il rapporto carica su massa dell'elettrone che è quello che interessa l'esperimento e che quindi quello è stato misurato da jj thompson con questo esperimento proprio di interesse anche storico ed ha prodotto all'identificazione di questi raggi cattolici appunto i raggi del tubo di crux come delle particelle elementari le particelle cariche ed è in questo modo che è stato messo in evidenza la l'esistenza di queste particelle quindi dell'elettrone in particolare se a beneficio di cronaca il rapporto vale 1,75 8 quindi c'è la 11 coulomb per ogni chilogramma quindi la densità di carica per unità di massa dell'elettrone piuttosto elevata quindi scoperta dell'elettrone in misura del rapporto carica su massa di thompson legata essenzialmente come applicazione del dei fenomeni legati al moto di cariche all'interno di campi elettrici e magnetici un altro punto importante questo penso sia il punto conclusivo di oggi è il fatto che il l'effetto che ha un campo magnetico sul moto di cariche quello che è stato sfrutta e che viene sfruttato per rilevare la carica dei portatori di carica nella corrente elettrica se ricordate nell'argomento precedente avevamo visto che per quanto riguarda gli effetti del moto delle cariche il fatto che le importatori di carica siano positivi quindi cariche positive che si muovono verso per esempio destra come questa figura qui sotto o che siano di cariche consiglio negativo che si muovono verso sinistra produce la stessa algebricamente la stessa corrente elettrica perché la corrente legata essenzialmente al prodotto tra la densità di cariche mobili la carica dei portatori di cariche in moto l'area della sezione del filo e la velocità con cui si muovono le cariche quindi se cambio segno sia q che av il risultato è che i due segni si cancellano e quindi la corrente la stessa per cui per quanto riguarda gli effetti tra virgoliamo le elettrici della corrente non si può distinguere quale delle due situazioni sia quella realmente in atto cioè se sono cariche positive che si muovono in un verso o cariche negative che si muovono nel verso opposto ma immaginiamo di introdurre un campo magnetico immaginatevi due situazioni diverse questo si chiama effetto hall quello che mette in moto la il segno delle cariche in movimento in questa figura a sinistra avete una barra metallica all'interno della quale ci sono delle cariche in movimento qui ci sono cariche negative che si spostano verso destra con una certa velocità e c'è presente un campo magnetico diretto all'interno un detto alla dall'esterno verso l'interno di questa barra e quindi questo l'effetto presenza del campo magnetico produce una forza di lorenz che non potete osservare devia le le particelle in modo tale da produrre una deflessione se fate il verso protovettoriale v vettor b avreste una forza verso l'alto se la carica forse positiva ma verso il basso visto che negativa quindi le cariche negative vengono accumulate nella parte bassa di questa barra conduttrice lasciando sguarnite quelle verso l'alto per cui viene prodotto un campo elettrico diretto dall'alto verso il basso in questa situazione perché ripeto la forza magnetica la forza di lorenz deflette o sposta se volete le cariche in moto verso la parte bassa di questa barra metallica nel caso invece della figura di destra ok abbiamo la stessa situazione di prima quindi la corrente identica il campo magnetico identico ma stavolta sono cariche positive che si muovono verso sinistra a portare la corrente quindi se facciamo di nuovo il prodotto vettorale v vettor b ok abbiamo una forza diretta verso l'alto ok e in questo caso avremo che le cariche che si accumulano hanno segno opposto e quindi il carico le cariche si spostano verso il basso quindi in basso accumuliamo carica positiva per cui diversamente dalla situazione precedente se sono cariche positive muovendosi verso sinistra a produrre la corrente allora l'effetto del campo magnetico sarà quello di spostare le forze dei carichi positive verso il basso quindi introduce una polarità opposta alla precedente per cui l'eccesso di carica positiva verso il bar nel basso della nostra barra produce all'interno del nostro la nostra barra conduttrice un campo elettrico dal basso verso l'alto c'è una polarità opposta alla precedente quindi se in queste due situazioni misuriamo la il segno della differenza di potenziale tra la faccia superiore della nostra barra quella inferiore se misuriamo la barra inferiore di potenziale superiore quella inferiore cioè se potenziale superiore quello in basso allora sono cariche positive che si muovono verso sinistra se invece troviamo che il potenziale nella barra superiore nella fatta nella faccia superiore della barra è maggiore di quello nella faccia inferiore allora saranno cariche negative che si spostano verso destra produrre la nostra corrente e in realtà se abbiamo anche informazioni su quanto grande la nostra barra possiamo anche predire quanto vale la differenza di potenziale come vedete qui a destra sufficiente evidentemente bilanciando la forza di lawrence dovuto il campo magnetico e quella conseguente alla alla differenza di potenziale creata da questo scompenso di carica prodotto dalla dalla forza di lawrence e di fatto risulta che è verificata la situazione a sinistra cioè il facendo l'esperimento è stato dimostrato che il le cariche responsabili della corrente elettrica sono le cariche negative che si spostano in questo caso verso destra quindi la situazione reale effettivamente in atto è quella messa in luce dall'esperimento di holl quindi le cariche di conduzione quelle che portano la corrente sono gli elettroni in moto ordinato nella direzione opposta a quella che si assume come la per il verso positivo della corrente questo che è una secondo me interessante applicazione del della forza di lawrence riesce a mettere in luce la natura il tipo dei portatori di carica che producono la corrente ditemi se tutto chiaro se devo ripetere qualcosa se no concludiamo riassumendo quanto abbiamo visto fino ad adesso io ho visto che il 22 applicazioni principali del della forza di lawrence abbiamo visto sono quello il settore di velocità lo spettrometro di massa il lo studio di thompson sul tubo sui raggi di crux che ha portato alle evidenziare l'esistenza della particelle degli elettroni con particelle elementari e il segno dei portatori di carica un'altra grossa applicazione di questi del moto delle particelle in campi elettrico e magnetico sono gli acceleratori di particelle nei quali si creano campi magnetici ed elettrici molto intensi che vengono sfruttati per accelerare le particelle in modo tale che queste acquisiscano determinate energie e facendole poi scontrare l'una con le altre si producono reazioni nucleari utili per capire qual è la struttura e qual è la fisica che governa questo tipo di di oggetti di enti in natura possiamo distinguere due grosse categorie di acceleratori quelli lineari come per esempio quello di stanford in california oppure quelli dove la traietà delle particelle sono circolari come quello al cerno di ginevra il qui avete l'acceleratore di tipo lineare in cui una sorgente di particelle cariche emette particelle e ci sono dei dei conduttori a forma cilindrica che cambiano periodicamente polarità in modo tale che quando la particella attraversa la zona tra un cilindro e successivo la polarità dei due cilindri metallici e tale è sincronizzata in modo tale che le accelere sempre nello stesso verso questa è l'idea che sta alla base dell'acceleratore lineare di particelle mentre l'effetto del campo magnetico è quello che invece è sfruttato negli acceleratori dove le traiettorie sono circolari e qui per esempio c'è il ciclotrone ciclo dal direcco chiclos che significa cerchio e abbiamo le particelle in moto all'interno di queste due grossi che chiamano di visto che su una forma di di quella sopra quella sotto separate da uno spazio vuoto all'interno di questo spazio le particelle vengono accelerate da questa differenza di potenziale vi ricordo che all'interno del conduttore il campo è nullo ma per mantenere le particelle entro una zona limitata dello spazio è necessario un campo magnetico e qui indicato da queste crocette che indicano che appunto il campo magnetico è omogeneo e diretto nel verso entrante alla pagina e quindi nella zona all'interno tra queste due grosse di questa parte circolare del ciclotrone le particelle seguono traiettoria circolare per effetto appunto della forza magnetica quando escono da questa zona e entrano nella nella zona media tra le due di il campo elettrico presente in questa parte le accelera quindi aumenta la loro velocità per cui il raggio della loro orbita cresce finché non raggiungono valori desiderati della velocità e vengono fatte vengono mirate e proiettate o se preferite sparate su particolari bersagli che saranno altre particelle o particolari sostanze e poi se ne studia si studia l'effetto della collisione le collisioni vengono studiate con dei tra particolari traccianti che ne individuano sia la traiettoria che quanta energia era associata sia le particelle proiettile che quelle bersaglio che soprattutto alle particelle prodotte dalla collisione un'altra applicazione interessante questa penso sia l'ultima di oggi è la propulsione magnetica ad esempio nei sottomarini non so se avete visto il sottomarino il film scusate caccia ottobre rosso in cui si narrava la storia di un sottomarino sovietico che veniva spinto da motori a propulsione magnetica qual è il vantaggio di questi motori che non hanno parti grosse in movimento quindi sono estremamente silenziosi e molto molto difficili da rilevare ad esempio dei sonar in che cosa consiste beh immaginate questo parte del sottomarino parte propellente del sottomarino e questo tubo in cui viene creato una differenza di potenziale un lato e il lato opposto del tubo hanno potenziali diversi quindi qui dentro si mette un campo elettrico l'acqua del mare è una soluzione di gli ioni quindi è fatta di atomi e molecole cariche per cui il campo elettrico le accelera una volta che sono in moto se nello stesso tubo è presente anche un campo magnetico allora la le particelle del liquido dell'acqua sottoposte all'azione della forza di lorenz visto che sono in moto in campo magnetico vengono spinte verso un lato in questo caso verso questo lato indicato dalla freccia verde e quindi l'acqua entra da un'estremità di questo tubo esce dall'estremità opposta qui vedete l'avverso della forza di lorenz qui ovvi la velocità delle particelle acquisita dovuta acquisita per la presenza campo elettrico moltiplicata vettorialmente per il per il vettore indicato da queste frecce in rosso verso l'alto produce una forza verso l'esterno verso la parte indicata da questa freccia verde nel tubo quindi l'acqua viene fatta entrare da questo tubo per forza magnetica viene spinta verso l'esterno si fa scorrere attraverso il tubo e quindi per reazione terza legge di newton tutta la struttura del tubo viene spinta in avanti e quindi produce una propulsione quindi questo è un motore che dice magneto idrodinamico nel senso che produce una spinta una forza per reazione sulla struttura del sottomarino legata proprio al fatto che la sfrutta il motto delle cariche di particelle cariche in questo caso per celebrare perché sono ioni all'interno di un campo magnetico ed ha il vantaggio ripeto che è un motore estremamente silenzioso perché come vedete una volta che uno ha prodotto la differenza di potenziale tra i due e il campo magnetico non ci sono grosse parti come pistoni o elico che è in movimento ed è quindi un motore estremamente silenzioso questo era l'idea insomma nel film si mostrava che questo sottomarino già esisteva è stato costruito e viene poi conteso tra le due potenze in realtà prototipi di questo motore esistono ma la loro efficienza è talmente bassa che non conviene produrli quindi non viene attualmente non viene sfruttato per la propulsione ok questo è quanto abbiamo visto in questa parte abbiamo già in parte riassunto e e quindi per oggi direi che ci possiamo fermare qui non riesce a fare qui ok 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 ok